Siamo a Cozzo del Diavolo, vuota circa da 1000-1100 metri, appennino faentino. A sinistra Eromo di Gammogna e Marradi ha un tiro di schioppo, però la nebbia non rende. Davanti a noi tutta la valle del Tramazzo, nascosta dalla nebbia. Dietro abbiamo la Quacchetta, famosa decantata da Dante. E qui siamo in mezzo a una fagetta. Da questo punto abbiamo diverse alternative, o andiamo verso Marradi o verso Tredozio. Noi oggi proseguiamo verso Tredozio, facciamo tutto il crinale, e adesso facciamo un pezzo di bosco che probabilmente non si fa in bicicletta, lo dobbiamo portarci le biciclette a spalla. E poi riprendiamo la mulattiera fino a Tredozio. Chi ha la bicicletta nuova stia attento, perché è probabile che qualche salto si faccia. Te mando di qualcosa a te, se vuoi dire qualcosa. Oggi è il primo giorno con la Specialized, vediamo come si comporta. Sì, sì, è un'idea battezzata, praticamente, come ho già detto, è come per un cristiano di essere battezzato nel fiume Giordano. Speriamo bene.